Mars, questo il nome del nuovo medio di gamma dell'azienda asiatica Verni, si presenta con una piattaforma hardware già nota. Infatti anche per questo device è stata scelta una CPU Mediatek, più nello specifico parliamo dell'Helio P10, octa-core con clock massimo a 2 GHz. In abbinamento troviamo ben 4 GB di RAM di tipo LPDDR3 e 32 GB di storage interno espandibile attraverso una microSD sacrificando il secondo slot SIM. Il comparto grafico è affidato alla Mali T860 MP2, quest'ultima con clock a 700 MHz. Interessante novità riguarda sicuramente il software, infatti Verni Mars vanta una ROM basata sull'ultima release di Android, ossia Nougat 7.0. Ma come si sarà comportato su AnTuTu Benchmark? Scopriamolo all'interno del nostro test. alle Only you Can make me move You, you can make me move Can make me move You, you 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 can make me move